per il consiglio di te è difficile se la scoppa va a fare il rapporto va a fare il rapporto con la scoppa del no no, per la stessa tuttora devo lanciare la scoppa come mi dico, io voto proprio perché non sta l'idea una legge ole perché io per te rompisco il sindaco che sorride alle difese a oltranza di Madarazzo che non hanno senso io non ci parlo un altro di due voce se il sindaco si metterà la crocca che cercherà la guardia noi ci mettiamo il tasto da guardia che cosa mettele a pomidino che i tu sfruttano? guarda! a cos'è? anche quel cammino si sta scendendo Vida ma come si sta scendendo? ma poi si sta scendendo? si sta scendendo ma, Assessore che cosa sta facendo? ma adesso mi fai vedere le strutture di cui hai sensato Assessore assessore la specima che ci ha fatto? ma ah l'Icezere 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 per favore ma il sindaco usa atteggiamenti dell'istituzione a entrare facendo problemi ma guarda atteggiamenti vatti a sedere che fa il sindaco hai capito come fai? vieni da frontale vieni da frontale vatti a sedere vieni da basella tu sei un sindaco vieni da basella vieni da qui vieni da qui se hai un sindaco dovresti essere rispondi da qui non mi posso avvicinare non mi interessa rispondi da qui la solutita è più pinza per 5 minuti no 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 sospendiamo là